A Sanremo New Talent con Arianna Carchedi, lei viene dalla regione? Calabria. Perfetto. Allora Arianna, so che tu hai un compagno, una compagna anzi, inseparabile. Di chi si tratta? La mia adorata chitarra. Perché tu quando canti hai lei come accompagnamento? Sì, certo. Sempre. Io dico sempre che prima di una cantante sono una chitarrista, perché è stata la chitarra a portarmi a cantare nella mia stanza, nelle mie quattro mura. Senti, questo cappello fa parte del tuo personaggio o è casuale qui in questa intervista? No, niente, è casuale. Io porto il cappello perché mi piace molto il country. Quindi il tuo brano sarà un brano country oppure no? L'ho trasformato in una versione simile al country che si può adattare. Va bene, la ascolteremo per il momento in bocca al lupo. Grazie. 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 Grazie a tutti.